Siamo con Alessandro Ferro, ex sindaco di Chioggia, che si sta proponendo in questo momento per le elezioni politiche del 25 settembre. Come sta andando? Sta andando bene, siamo qui presenti nel corso del popolo e ho deciso di candidarmi perché ritengo sia opportuno portare a livelli anche nazionali l'esperienza maturata con questi 5 anni di sindaco, con la conoscenza del territorio e delle sue problematiche. Ho visto che altri partiti, altre coalizioni non fanno altrettanto, mettono in prima linea dei rappresentanti che non sono neanche del territorio. Ecco, invito l'elettore il 25 settembre a valutare e fare le proprie considerazioni su chi andrà a scegliere. Per cui, come ti sembra la risposta delle persone? Oggi c'è tantissima gente a Chioggia. Tantissima gente, Chioggia è una città meravigliosa, anche noi abbiamo dato come amministrazione precedente il nostro contributo affinché sia stata valorizzata così come lo è stato in questo ultimo periodo. Il Covid ci ha limitato per gli ultimi due anni, però vedo un ottimo riscontro anche in termini di turismo e questo mi fa profondamente piacere. Oggi è una bellissima giornata di sole e la città è piena di gente. Perfetto, allora un in bocca al lupo per la tua campagna, continua così. Grazie, grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a te.